a meri a radio presenta agathos alla radice del pensiero a cura e con giovanni giammarino buonasera questa puntata è dedicata a nicce con nicce tocchiamo il culmine della parabola dell'irrazionalismo e giungiamo ad un anno emblematico quello dell'inizio del secolo ventesimo nicce è morto nel 1900 da giovane è un lettore di schopenhauer e la sua filosofia prende direttamente ispirazione da quest'ultimo ma con un capovolgimento decisivo nelle conclusioni schopenhauer aveva sostenuto la mancanza di significato dell'esistenza la vita è per lui animata da una cieca volontà di vivere che non conduce da nessuna parte è appunto cieca voglia dire esclude ogni finalismo l'uomo è strumento della natura che usa i singoli individui come marionette la vita è priva di senso ne consegue il pessimismo non è possibile progettare alcunché non è possibile costruire un destino significativo per sé o per l'umanità la volontà di vivere deve per schopenhauer venire estinta superando l'inganno e giungendo alla noluntas all'esatto opposto della volontà la volontà di vivere deve capovolgersi nel suo contrario bisogna approdare a quello che la religiosità buddista ha chiamato nirvana cioè l'abbandono al nulla l'estinzione di ogni moto di volontà schopenhauer vede nella volontà di vivere il cuore della realtà l'equivalente della cosa in sé kantiana attraverso il filo di arianna del corpo schopenhauer identifica la cosa in sé nella volontà di vivere ma la respinge predica il suo superamento indica la via della sua estinzione nicce accetta questo punto di vista ma non nelle conclusioni se la volontà di vivere il cuore della realtà dobbiamo accettarla con tutte le nostre forze la volontà non deve essere smorzata estinta superata nell'anno luntas bensì deve essere fatta nostra deve essere accettata dobbiamo coincidere con la volontà di vivere dobbiamo affermare quella che diventa così la nostra volontà di potenza dobbiamo voler coincidere col nostro destino uno dei motti più pregnanti di nicce è ego fatum io sono il fato coincido col mio destino per nicce la forza dell'uomo sta nella coincidenza con se stesso nell'accettazione della vita nella fedeltà alla terra l'accettazione alla volontà di vivere che diventa volontà di potenza implica una critica di tutta la cultura e la filosofia occidentali critica a cui nicce procede gradualmente smantellando tutti i valori e pilastri della civiltà occidentale in quanto essa sarebbe fondata sulla rinuncia alla volontà di vivere la prima critica prima sia dal punto di vista della storia della cultura sia da quello della biografia diciamo così di nicce viene rivolta alla civiltà greca da giovane nicce era un filologo classico un esperto della lingua e della letteratura greche la sua prima opera importante è la nascita della tragedia dallo spirito della musica scritto e pubblicato nel 1872 in cui capovolge le interpretazioni correnti sul mondo greco che erano quelle di finkelmann e di goethe qual era l'immagine del mondo greco dominante al tempo di nicce immagine che poi in fondo è sopravvissuta anche nel nostro approccio ai greci è quello della civiltà greca che ha raggiunto un equilibrio un'armonia vinkelmann esalta le opere dell'arte greca in quanto ispirano l'idea di nobile semplicità e calma grandezza c'è una calma grandezza nella statuaria greca che testimonia l'equilibrio solare raggiunto da questo popolo il popolo greco la civiltà greca secondo vinkelmann e goethe è vissuta nella solarità mediterranea è riuscita a raggiungere ed esprimere l'armonia la proporzione la misura l'arte greca manifesta il perfetto accordo tra l'uomo e il mondo le perfette proporzioni della figura umana il divino ridotto a dimensione umana un mondo sereno di splendore di luce un mondo che si può porre sotto il segno di apollo il dio del sole il dio della luce nel respingere questa interpretazione classica nicce sostiene che essa è sfuggita una componente fondamentale della civiltà greca quella dionisiaca la civiltà greca non si sarebbe svolta soltanto il segno di sotto il segno di apollo perché la luminosità la solarità sono un emblema della ragione in tutta la cultura occidentale quando si parla di sole di luce in termini metaforici si intende la ragione basti pensare all'illuminismo secondo niccio invece c'è stata un'altra anima greca quella veramente vigorosa forte energica originaria che non è stata solare bensì notturna e non è stata legata al dio apollo bensì a dioniso il dio delle tenebre il dio della notte il dio dell'ebbrezza dioniso è equivalente di bacco nella regione umana nella religione romana è il dio del vino dell'euforia dell'ebbrezza e niccio sostiene che lo spirito originario della civiltà greca è quello dionisiaco non quello apollineo dioniso in quanto dio dell'ebbrezza è il simbolo del superamento del principium individuazioni di cui aveva parlato schopenhauer nella sobrietà quando prevale la ragione si scorgono netti confini delle cose i limiti di ciascun individuo nel momento dell'ebbrezza nel momento bacchico invece si supera il senso del limite si arriva a toccare più da vicino la volontà di vivere che è qualche cosa di impersonale rispetto alla illusione dell'individualità dovuta al velo di maia per usare i termini di schopenhauer dioniso è quindi il dio della rottura del principium individuazioni è il dio della notte in cui tutto è indistinto non c'è separazione fra le cose è il dio della musica la musica ci rapisce a noi stessi implica un superamento dei confini dell'individuo dei propri limiti come già schopenhauer aveva sostenuto in un modo molto suggestivo niccia descrive il dionisiaco nella nascita della tragedia in questo modo sotto l'incantesimo del dionisiaco non solo si restringe il legame fra uomo e uomo ma anche la natura estraniata ostile e soggiogata celebra di nuovo la sua festa di riconciliazione col suo figlio perduto l'uomo nella civiltà greca quindi ci sono la notte le brezza la musica il dionisiaco a fianco ad essi c'è il solare c'è l'individuazione c'è la ragione c'è appollo dio delle arti figurative che implicano immagini ben precise ben determinate quelle che erano state esaltate da vincelman nell'uomo greco sono presenti tutte e due le componenti l'individuazione e la rottura dell'individuazione il solare il notturno l'arte figurativa ma anche la musica appollo ma anche dioniso la civiltà greca arcaica riuscì a mescolare bilanciare questi due elementi poi si presentò un personaggio scomodo il cuore ruppe questo equilibrio che si era espresso al massimo livello nella tragedia la tragedia greca di eschilo di sofocle è l'espressione più alta di questa civiltà fondata sulla compresenza delle due componenti apollina e dionisiaco questo equilibrio fu rotto da socrate col suo continuo dubitare con la sua attitudine a sottoporre tutta la critica a ricorrere alla riflessione a usare sempre la ragione socrate introdusse nella mentalità greca un elemento di distacco dalla realtà in quanto l'uso della ragione implica pur sempre un mettere le cose a una certa distanza per poterle analizzare una modalità opposta al coinvolgimento dionisiaco l'influenza di socrate si ripercosse anche sulla tragedia di euripide nelle cui opere i personaggi si dedicano a ragionare a cavillare a discutere ecco con socrate che infette euripide si rompe l'armonia di apollina dionisiaco della tragedia greca si rompe l'equilibrio della personalità greca nasce una tendenza raziocinativa a non vivere le cose direttamente in maniera sanguigna immediata ma a rifletterci sopra a prendere le distanze a criticare e quindi si introduce una specie di tarlo un elemento che indebolisce il vigore lo spirito nativo istintivo che aveva fatto secondo niccio la grandezza dei greci e si diffonde una sorta di malattia la grecia classica viene vista come inferiore rispetto a quella arcaica nice esalta soprattutto il momento delle origini della forza del sangue del vigore il momento notturno mentre il momento del ragionamento dell'intelletto il momento socratico insomma viene sminuito ancora più forte è la critica platone che ci avvicina al cuore del pensiero di niccio platone è condannato ancora più asperamente di socrate in quanto egli ha concepito il mondo delle idee ha sovrapposto al mondo sensibile un mondo ideale svalutando così il mondo sensibile platone ha dato avvio a un gioco di rinvio all'aldilà delle cose un gioco di trascendimento che implica una svalutazione del mondo reale il platonismo più del socratismo è un ostacolo alla realizzazione dell'uomo socrate introduce il tarlo del dubbio la critica la riflessione platone addirittura schiaccia il mondo sensibile il mondo delle cose subordinandolo al mondo delle idee che si sovrappone adesso i valori le idee la perfezione l'eternità sono esclusi dalla realtà sensibile e vengono riferiti al mondo delle idee il mondo sensibile è un mondo imperfetto è un mondo di copie delle idee quindi è una realtà da cui bisogna scappare fuggire e nicere spinge soprattutto l'affermazione platonica per cui il corpo è il carcere dell'anima il fatto che il mondo ideale è superiore al mondo sensibile implica che l'anima è superiore al corpo che l'aspirazione dell'uomo deve essere quella di ribellarsi dal corpo per entrare più direttamente in contatto con l'idea nicere critica duramente la diminuzione dell'importanza del corporeo a favore dell'anima e del mondo ideale e sostiene che il rifiuto del corpo la priorità assegnata all'anima all'ideale al trascendente a ciò che sta al di là del sensibile è un fattore che dal platonismo passa nel cristianesimo e il cristianesimo secondo nicce è una sorta di manifestazione del platonismo esso ha accolto da platone l'idea che c'è un mondo superiore a quello sensibile un mondo spirituale ricco di valori che implica il bene la felicità eterna e così via in nome del quale viene svalutato il mondo della carne della materia che a questo punto è soltanto una valle di lacrime da cui bisogna liberarsi la svalutazione del mondo sensibile in platone ha generato l'affiliazione molto più robusta che è il cristianesimo con la sua svalutazione della corporeità della materia come platone aveva detto che il corpo è il carcere dell'anima così il cristianesimo predica con molta più energia che bisogna vivere di rinunce evitare i piaceri corporei puntare sulla salvezza dell'anima ma questo implica una svalutazione del mondo terreno tutto ciò che è trascendente che è al di là del sensibile tutto il sovrasensibile rivalutato dal cristianesimo porta la svalutazione del sensibile dell'aldiquà e implica sostiene niccio una morale da schiavi rinunciataria una morale che egli ovviamente disdegna niccio si domanda quali siano le virtù del cristianesimo e risponde che sono l'umiltà la rinuncia il sacrificio cioè le virtù degli schiavi le virtù di chi è stato sconfitto e che essendo stato sconfitto fa apparire virtù quelle che invece sono sue debolezze chi non è riuscito a raggiungere la potenza ad accumulare ricchezza ad esprimere la propria forza fa diventare valori quelle che sono le cause della propria sconfitta il messaggio cristiano afferma che gli ultimi saranno i primi ma questa è una morale sostiene niccio inventata dagli ultimi da chi ha perso è schiacciato è sconfitto e dirige a valori i motivi della sua sconfitta ma in che senso si tratta di una morale degli schiavi si può ricorrere al racconto della volpe dell'uva di fedro cioè la la volpe non riuscendo a raggiungere l'uva la considera acerba ecco questo è il ragionamento alla base della morale degli schiavi o morale del risentimento come niccio la definisce chi non è riuscito a raggiungere potenza potere ricchezza afferma che potenza potere ricchezza sono qualche cosa di negativo a cui è bene rinunciare in quanto si tratta di disvalori mentre i valori sono esattamente opposti tutto quanto l'uomo debole non riesce a realizzare lo definisce negativo un disvalore mentre trasforma invece tutto quello che ha originato la sua sconfitta in un valore morale questa è la genesi della morale cristiana un capovolgimento dei veri valori che per niccio sono quelli che gli non esi a definire valori aristocratici i valori dell'affermazione di se stessi riuscire a primeggiare a dare la propria impronta alle cose questa è virtù nel senso che ancora gli antichi riuscivano a capire virtù come valore il mondo cristiano invece nel mondo cristiano la virtù è diventata al suo opposto cioè la debolezza la genesi della morale dovuta al risentimento ci si risente per non essere grandi e potenti e per questo si esalta l'essere deboli e umili vorrei mettere in rilievo come dire quello che oggi è un luogo comune su niccio cioè oggi niccio diciamo così è un pensatore di successo no cioè viene visto come uno dei cardini della cultura del novecento e da molte parti viene accolta la sua critica della tradizione occidentale ma c'è in niccio un aspetto interessante cioè l'avere diciamo così anche confuso il piano della genesi con il piano della validità in umano troppo umano nella genealogia della morale niccio sostiene che se andiamo a ricercare qual è la genesi dei valori morali troveremo che essa è sempre vile basta cioè l'invidia la gelosia l'impotenza la debolezza il servidismo danno luogo alle virtù non riesco a raggiungere la famosa uva della 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 del racconto della volpe l'uva che è troppo alta la disprezzo dico che acerba che è meglio rinunciarvi quindi manifesto un risentimento un'incapacità un'impotenza una debolezza le virtù sono generate da impulsi psicologici bassi umani troppo umani e niccio trova le radici della morale nelle pulsioni più spreggevoli dell'uomo cioè sostiene di voler fare il lavoro della talpa di voler scavare per vedere che cosa c'è sotto la superficie dell'albero dei valori e trova che le radici di quest'albero sono marce la genealogia della morale distrugge i valori mostrando come gli ideali in cui gli uomini credono sono generati da torbide passioni da impulsi ottusi dalla volontà di essere ammirati dall'incapacità di primeggiare con la svalutazione dei valori in base alla loro genesi niccio ha compiuto diciamo così un un errore cioè ha confuso il piano della genesi e il piano della validità che sono distinti e separati questa conclusione iniziana ha prodotto una confusione anche dei problemi non indifferenti in quanto ha alimentato un disorientamento della cultura contemporanea e per fare un confronto con un grande pensatore diciamo sulla linea nicciana che il nostro enorme grandissimo leopardi ma consideriamo l'opera di leopardi questa è valida cioè ha un valore estetico no a un valore di carattere universale riesce a parlarci dopo due secoli in quanto leopardi è riuscito a esprimere valori di carattere estetico di carattere anche morale e filosofico ancora significativi per l'uomo contemporaneo ora una tendenza genealogica di tipo nicciano su che cosa si sofferma leopardi era ovvio come sappiamo un uomo sofferente psichicamente e fisicamente aveva forse la tubercolosi era gobbo non veniva amato dalle donne no aveva una famiglia oppressiva e così via dalle turbe presunte o reali di leopardi dalla condizione familiare e sociale in cui è vissuto leopardi si cerca di trarre elementi di valutazione sulla sua estetica sulla sulle sue poesie sull'infinito sul sabato del villaggio e si tende a scambiare il piano del valore estetico con quello della genesi psicologica queste due cose sono separate invece in maniera netta basta fare la semplicissima considerazione che tantissimi altri giovani nell'italia sonnacchiosa dei primi dell'ottocento erano malati vivevano in situazioni disperate e non hanno però comunque prodotto nulla quindi non c'è alcun rapporto necessario tra queste disgrazie sono sul piano psicosociologico e il valore estetico delle poesie di leopardi essi hanno un valore poetico estetico comunicativo a prescindere dalla loro genesi un'ulteriore testimonianza in questo senso può essere data dai poeti che hanno origini sconosciute per esempio è shakespeare sicuramente il più grande genio tragico dell'età moderna della cui vita non si sa quasi niente di certo fino ad essere insicuri circa la sua stessa identità prendiamo da ultimo l'esempio forse più clamoroso il dicut omerum fuisse cecum si dice che omero fosse cieco su omero ci sono tantissime dispute il nostro vico grandissimo vico ha sostenuto che omero non è mai esistito non è altro che la voce della coralità del popolo greco delle origini di omero non si sa nulla ma il via dell'odissea sono grandi poemi in cui viene raggiunto un piano eccelso di valori estetici in cui vengono espressi i valori etici come la fedeltà la realtà il coraggio la dedizione la sete di conoscenze insomma i grandi movimenti umani che sono ancora oggi validi e palpitanti la genesi empirica dell'iliade non è rilevante per avvertire il valore estetico e filosofico dell'iliade ammesso pure quindi e non concesso che la genesi dei valori sia quella che niccio identificato ciò non toglierebbe niente alla validità dei valori in quanto i valori devono essere sottoposti ad un'analisi di carattere razionale non ad una ricostruzione empirica della loro genesi che può al più portare a scoprire che qualcuno aveva una debolezza e l'ha fatta diventare forza ecco non è la ricostruzione empirica psicologica sociologica storica che conta bensì la valutazione da un punto di vista razionale i valori della civiltà occidentale greco cristiana sono sicuramente alla luce della ragione estremamente solidi a prescindere dalla loro possibile genesi empirica si deve inoltre rilevare che il valore supremo è la verità e nice sostenendo le origini basse della verità e la sua sostituzione con la volontà di potenza destituisce di ogni valore di verità le sue stesse argomentazioni che alla luce del suo stesso pensiero diventano espressione di una volontà di potenza particolare nice condanna la grecia classica di socrates platone rifiuta il cristianesimo come morale degli schiavi infine gli rispinge il socialismo che implica anch'esso l'atteggiamento della rinuncia in quanto chi combatte per il socialismo pensa di operare per qualche cosa che si edificherà nel futuro come il platonico il cristiano rinunciano all'oggi per il domani nell'aldilà così il socialista rivoluzionario rinuncia all'oggi sperando nel domani nelle edificazioni della giustizia sociale dell'eguaglianza eccetera quindi platonismo cristianesimo e socialismo sono accomunati dalla rinuncia all'oggi e a qui ed ora no cioè al senso la materia all'immediato in favore di ciò che viene dopo del trascendente da questa critica emerge la proposta in positivo di nice cioè nulla avviarsi verso una trascendenza ma erradicarsi nel nel presente la morale potrebbe essere un narcotico che invece di permettere all'uomo di scatenare tutte le sue forze di concentrare tutte le sue energie nel presente gli fa operare un rinvio cioè lo spinge a rinviare tutte le speranze e tutte le aspettative in un al di là paradiso socialismo che sia l'uomo in questo modo si indebolisce si narcotizza si avvelena e non esprime la sua possanza e la sua magnificenza quindi la morale della volontà di potenza di nice nel suo aspetto propositivo è enigmatica sembrerebbe che essa debba consistere nel contrario della morale da schiavi sono stati compressi il senso l'istinto la natura l'animale e sembrerebbe che debbano essere ora valutati positivamente proprio il senso l'istinto e la natura nice poi come sappiamo avuto un crollo mentale nel 1889 aveva manifestato già in precedenza sintomi di una follia che esplose quando abbracciò un cavallo nella città che prediligeva torino e si mi sa parlare con questo cavallo che era stato percosso dal suo padrone fino al 1900 gli ha vissuto in una situazione molto delicata era malato di mente e la sorella elisabeth fursternice mise quest'uomo di genio incredibile al centro di una sorta di rituale di visite di persone che si recavano a trovarlo curiosi di conoscere il genio dei geni di quell'epoca soprattutto però la elisabeth compie un'operazione molto grave prima dell'esplodere della follia niccia aveva steso appunti per un'opera che si proponeva di intitolare la volontà di potenza saggio di una trasvalutazione di tutti i valori quest'opera nice non ha mai potuta portare a compimento ma la sorella ne ha raccolto i frammenti ed ha fatto stampare nel 1906 un libro intitolato la volontà di potenza libro che nice non ha mai chiuso non ha mai considerato completato quest'opera in cui si delinea più nettamente la parte propositiva della filosofia di niccia un libro quindi mai scritto in quanto tale che si è prestato alla strumentalizzazione gravissima e vergognosa da parte del nazismo in quanto vi viene rivendicata la volontà di potenza la volontà affermativa ma volontà affermativa di quali contenuti di qualunque contenuto sia presente nella vitalità dell'individuo quest'opera conteneva frasi in cui si accenna al superuomo come uomo forte biondo con gli occhi azzurri i nazisti sostenevano che il superuomo coincideva con l'uomo ariano e che le teorie razziste di rosenberg e di hitler individuavano in questi scritti ma i nazisti strumentalizzarono nice strumentalizzarono il nice della volontà di potenza deformando l'operazione editoriale già arbitraria della sorella oltre che quest'opera postuma così purtroppo storpiata nelle opere date da niccia le stampe viene predicato che bisogna battere tutto ciò che ha ostacolato l'istinto il senso l'animalità tutte le aspirazioni al trascendente hanno costituito l'anti senso l'anti istinto l'anti natura l'anti animale e allora come dire l'uomo è schiacciato secondo niccia dalla moralità dalla morale e deve essere superato deve essere sostituito da un uomo fortificato dal pericolo e dal dolore abituato a convivere con il pericolo e con il dolore anche su questo piano c'è grande fascinazione proprio per la sua ambiguità perché la tendenza protonico cristiana viene da niccia chiamata nichilismo qui si presenta un problema terminologico perché nichilismo avviene dalla parola nichil che in latino significa niente quindi nichilismo significherebbe filosofia del niente filosofia dell'agnentamento dell'agnentamento di tutto filosofia della negazione totale della realtà questo termine coniato nella prima metà del settecento in riferimento alla filosofia di democrito era entrato in moda proprio quando niccia era giovane diffuso nella cultura europea grazie a due grandi romanzieri russi turgheniev e dostoevsky intorno al 1860 in europa si diffonde questo termine nel famoso romanzo padri figli di turgheniev il protagonista è un nichilista turgheniev dipinge la figura dell'ichilista in maniera buonaria è un tipo che ride a tutti i valori che prende tutto in maniera superficiale che non ha alcun punto di riferimento ma viene presentato in una maniera sostanzialmente positiva i nichilisti compaiono anche in grandi romanzi di dostoevsky per esempio nell'idiota ma con un connotato negativo riferito a persone che appunto sono disposte anche a distruggere la realtà per le loro idee fantastiche sono mistici scontenti della realtà i quali vogliono annientare distruggere il mondo come esso è fatto adesso lo vogliono annichilire per creare un nuovo mondo che è un mondo nato dalla loro fantasia ma sono in qualche modo invasati da un ideale religioso di una nuova umanità nice riprende il termine nichilista ma dice di usarlo in un senso diverso da quello della città di san pietroburgo cioè diverso da da staglieschi il mio nichilismo scrive niccio non ha niente a che fare con una nuova religione con le illusioni di poter creare una palingenesi una riforma una nuova nascita del mondo il mio nichilismo è la presa d'atto dell'annientamento della vita e dell'annientamento di tutti i valori niccio si fa banditore quindi del nichilismo ma nel senso di una diagnosi della malattia dell'umanità europea questo comporta un problema che niccio si vede come un nichilista ma non nel senso che egli sia banditore dell'inchilismo portatore della bandiera dell'inchilismo come un medico egli ha fatto una diagnosi l'occidente è entrato in uno stato morboso in uno stato di malattia a seguito della sua continua negazione della vita avendo rifiutato la vita in tutta la sua storia adesso l'occidente si è sterilito ha capito che anche il surrogato della vita cioè i valori sono qualche cosa di fittizio e a questo punto non crede più in niente si prepara quindi un periodo caratterizzato dalla morte di tutti i valori tutti i valori sono incardinati in dio dio è il perno intorno a cui ruotano tutti i valori ed entrati nell'età dell'inchilismo siamo entrati quindi nell'età della morte di dio perché morti tutti i valori è morto anche il valore supremo cioè dio e nice è il profeta che viene ad annunciare questo annientamento dei valori si può quindi dire a nice contestare di essere un nichilista nel senso che appunto egli stesso pretende di scardinare tutti i valori di annientare tutti i punti di riferimento del pensiero occidentale ma nice si interpreta come un profeta che annuncia la morte di dio e il risultato di questa morte le conseguenze della morte di dio quindi del nichilismo totale si vedranno nei prossimi due secoli dice nice e questa affermazione di nice è un'affermazione profetica molto significativa perché nice è morto nel 1900 quindi i frutti del nichilismo cioè del giungere le sue estreme conseguenze del crollo dei valori della morte di dio si sarebbe visto secondo lui nel novecento nel secolo attuale in una pagina letterariamente pregevolissima della gaia scienza niente siamo nel 1882 niente scrive non avete mai sentito parlare di quell'uomo pazzo che in pieno mattino acceso una lanterna si recò al mercato e in cominciò a gridare senza sosta cerco dio cerco dio trovandosi sulla piazza molti uomini non credenti in dio e gli suscitò in loro molta ilarità uno disse l'hai forse perduto e altri si è smarrito come un fanciullo si è nascosto in qualche luogo ha forse paura di noi si è imbarcato ha emigrato così gridavano ridendo fra loro l'uomo pazzo corse in mezzo a loro e fulminandoli con lo sguardo gridò che ne è di dio io ve lo dirò noi l'abbiamo ucciso io e voi noi siamo i suoi assassini ma come potremmo farlo come potremmo bere il mare chi ci diede la spugna per cancellare l'intero orizzonte che facemmo sciogliendo la terra dal suo sole dove va essa ora dove andiamo noi lontani da ogni sole non continuiamo a precipitare e indietro e dai lati e in avanti c'è ancora un altro e un c'è ancora un alto e un basso non andiamo forse errando in un infinito nulla non ci culla forse lo spazio vuoto non è sempre notte sempre più notte non occorrono lanterne in pieno giorno dio è morto dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso come troveremo pace noi più assassini di ogni assassino la grandezza di questa cosa non è forse troppo grande per noi non dovremmo divenire dei noi stessi per esserne all'altezza ma ci fu fatto più grande e chiunque nascerà dopo di noi apparterrà per ciò stesso a una storia più alta di ogni altra trascorsa vengo troppo presto non è ancora il mio tempo questo evento mostruoso è tuttora in corso e non è ancora giunta alle orecchie degli uomini per essere visti e riconosciuti lampo e tuono hanno bisogno di tempo la luce delle stelle ha bisogno di tempo i fatti hanno bisogno di tempo anche dopo essere stati compiuti questo fatto è per loro ancora più lontano dalla più lontana delle stelle e tuttavia sono loro stessi ad averlo compiuto chiuso le virgolette insomma gli uomini hanno ucciso dio hanno perso i valori o meglio li stanno perdendo non credono più in niente precipitano senza una prospettiva le conseguenze dell'annichilamento dell'annientamento di dio e di tutti i valori si vedranno soltanto nelle generazioni future va sottolineato tra l'altro che nici non afferma l'ateismo è attenzione ma analizza un fenomeno storico gli uomini prima avevano prospettive avevano punti di riferimento avevano uno scopo della loro esistenza avevano valori a cui si ispiravano e come dire il rannodo di punti di riferimento era la religione era dio adesso essi hanno ucciso dio per dire che storicamente gli uomini hanno perso questo punto di riferimento e ancora non si rendono conto di che cosa accadrà in conseguenza di questo il profeta nicce che si identifica col profeta zaratustra lascia intravedere che verrà una nuova epoca i cui contorni non sono chiari in cui sembra quasi che l'uomo si debba sostituire a dio ma naturalmente non potrà essere l'uomo avvilito l'uomo debole l'uomo malato di cui nicce fa la diagnosi sarà un uomo diverso un uomo dell'avvenire sarà un super uomo in sostanza il pensiero di nicce si pone come una diagnosi della fine della decadenza dell'occidente l'occidente è stato roso è stato indebolito da una malattia e questa malattia che è il nichilismo è giunta alle estreme conseguenze e siamo arrivati a una fase transitoria ci saranno due secoli che produrranno i risultati ultimi della morte di dio dopodiché si assisterà alla nascita di qualche cosa di diverso del super uomo quindi nicce chiama nichilismo la tendenza della civiltà occidentale a creare valori trascendenti in quanto questi a lungo andare secondo lui vengono smascherati e chi li vede cadere si trova di fronte al vuoto si trova di fronte al nulla quindi si genera la sfiducia dei valori e il loro annientamento proprio perché valori sono falsi ci dice nicce ad un certo punto vengono smascherati e crollano si annichilano e gli stesso compie un'opera di smascheramento del falso fondamento dei valori i valori crollano e gli uomini si ritrovano di fronte al nulla precipitano senza sapere verso dove stiamo precipitando ora invece da un punto di vista esterno annisce il nichilista è proprio lui che disprezza tutti i valori la filosofia nichilista è proprio la filosofia nicciana e gli sostiene che il nichilismo è una conseguenza della debolezza della falsità su cui sulla su cui sono fondati i valori occidentali e come dire gli uomini sono dati si sono dati i più vari scopi dal progresso al nulla stesso il nichilismo nasce quando cadono le braccia perché non c'è nessun senso non ci si sta muovendo verso niente e non bisogna comportarsi secondo nicci come se si fosse in cammino verso una meta che sta oltre il presente ma ci si deve radicare in ogni singolo momento l'atteggiamento giusto sarà quello di non rinviare ma di cogliere l'istante non di vivere nel futuro o nel passato bensì nel presente una forte critica è rivolta da nicci al senso storico i suoi nemici sono quindi socrate platone il cristianesimo il socialismo come abbiamo detto e ogni atteggiamento di carattere storicistico nel suo famoso saggio sull'utilità il danno della storia per la vita dice pensa la storia come dannosa per la vita in quanto implica il rivolgersi al passato invece di concentrarsi nel presente e proiettarsi nel futuro del cristiano del socialista è negativo in quanto gli toglie forza per il presente il senso storico proietta nel passato e anch'esso sottrae forza per il presente bisognerà quindi vivere in maniera non storica nicci esalta il dimenticare è importante dimenticare il dimenticare da forza l'oblio è una funzione attiva non dice nicci perché il dimenticare se si è troppo legati ai ricordi al passato si blocca l'azione ecco questo è un punto importante perché è come se nicci volesse annullare attraverso la riflessione nichilista la storia questo è l'uomo l'uomo di nicci e zaratustra l'uomo che nicci e zaratustra non vede ancora ma di cui sente che sta per arrivare e di cui si dice il profeta è quindi il super uomo la parte propositiva del pensiero di nicci culmina nella teoria del super uomo ed è molto difficile da definire perché c'è un netto scarto tra l'uomo della civiltà occidentale abituato alla rinuncia e il super uomo il super uomo non è ben delineato per il fatto che non nasce dialetticamente per usare i termini egheliani e marxiani da una trasformazione del presente mentre per marx il socialismo nasce dal capitalismo per contraddizione interna per nicci come per tutti gli razionalisti da una situazione all'altra c'è un salto netto nicci in questo è come kirkegaard come schopenhauer non si fonda sulla logica dialettica bensì sulla logica binaria dicotomica a due termini o una cosa o un'altra e nicci rifiuta la mediazione dialettica di stampo egheliano anzi considera egli il peggior esponente dello storicismo rinnega la dialettica ma rifiutando la dialettica respinge la mediazione e deve dire che il super uomo è semplicemente l'opposto dell'uomo l'uomo è rinunciatario mentre il super uomo è affermativo e sarà quindi il super uomo radicato nel presente che non indebolirà le proprie energie vitali rivolgendosi al passato proiettandosi nel futuro alla teoria del super uomo è connessa la teoria dell'eterno ritorno dell'identico il tempo non ha una direzione di sviluppo come in fichte oppure in hegel non c'è una crescita non c'è un progresso bensì l'eterno ritorno dell'identico il tempo è come una clessidra che si gira continuamente in cui gli stessi granelli di sabbia vanno su e giù alternativamente l'eterno ritorno dell'identico implica che non c'è né passato né futuro ma conta soltanto il presente il presente è tutto e presente coincide con l'eternità e così nel appunto nel così parlo zaratustra nel 1885 ci sono accenni di quello che potrebbe essere il super uomo non a caso nicce ricorre a una immagine per cui zaratustra un profeta viene ad annunciare in termini vaghi un'epoca futura ecco dove lui a un certo punto scrive io vi insegno al super uomo l'uomo è qualcosa che deve essere superato che avete fatto per superarlo tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé e voi volete essere il riflusso in questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo che cos'è per l'uomo la scimmia un ghigno o una vergogna dolorosa e questo appunto ha da essere l'uomo per il super uomo un ghigno una dolorosa vergogna chiuse le virgolette quindi tra il super uomo e l'uomo ci sarà la stessa differenza che c'è tra l'uomo e la scimmia come noi guardiamo la scimmia con compatimento in quanto ci assomiglia ma è un essere inferiore a noi è una smorfia di uomo e dice nicce così il super uomo vedrà l'uomo come qualche cosa di inferiore l'uomo possiede qualche tratto del super uomo ma non è pienamente super uomo esattamente come la scimmia che non è esattamente uomo questa diciamo così vi è poi un ultimo aspetto di nicce vale a dire la fedeltà alla terra cioè bisogna evitare ogni trascendenza dice nicce bisogna vivere nell'immanenza essere fedeli alla nostra dimensione corporea e proprio terrena nicce ricorre alla metafora propria della poesia dove l'uomo diventa una freccia verso il super uomo ma da un punto di vista razionale filosofico non ci si può accontentare di immagini poetiche come la freccia che sta viaggiando come il tramonto che prepara un nuovo giorno e così via circa il super uomo nicce resta nel vago perché è poeticamente suggestivo ma filosoficamente difficile da definire d'altra parte benedetto croce e su questo adesso parleremo ha sostenuto che nicce è più poeta che filosofo e questo è un un grandissimo errore di benedetto croce voglio appunto partendo da questo approfondire ancora per qualche minuto la questione nicciana in seno alle sue interpretazioni perché appunto partendo da da questa riflessione di benedetto croce una riflessione completamente sballata e che però da esattamente la dimensione di quello che nicce era considerato fino a poco tempo fa e non solo da croce e invece è da circa ormai quasi un secolo che nicce non è più trattato come il letterato il poeta profeta secondo una prima versione anche interpretativa filtrata in italia attraverso d'annunzio che ne diede una lettura prodomo sua nicce è uno dei pensatori più importanti di tutta la storia del pensiero occidentale ed è un pensatore che ha fondato è uno tra i pochissimi anzi forse in maniera così radicale l'unico pensatore che ha fondato il pensiero contemporaneo e ha influito tantissimo sul novecento da decenni dicevo questa lettura è stata superata dai contributi mirabili di heidegger di jaspers di loewitt per citare i principali trattando nicce da gigante quale ma sempre collocandolo secondo l'interpretazione di heidegger all'interno della storia del destino della metafisica occidentale filosofo aristotelico nicce che si chiede che cosa è l'ente qual è l'essenza dell'ente e non le dimensioni dell'ente in cui si occupano le scienze particolari ma nicce si può collocare all'interno della crisi del sapere che attraversa tutte le forme della conoscenza tra ottocento e novecento una vera e propria crisi dei fondamenti che va letto anche all'interno di questa crisi cioè nicce va letto all'interno di questa crisi che riguarda la scienza della natura il primo nicce come abbiamo accennato quello di umano troppo umano e della gaia scienza cioè il nicce della decostruzione storico psicologica di cui abbiamo parlato del sapere in pieno scetticismo hegeliano dimostra quanto la dimensione scettica sia essenziale ad ogni filosofia perché altrimenti sarebbe ripetizione dogmatica di qualche sapere acquisito la dimensione scettica domina questo periodo di nicce dove il tauma di cui abbiamo parlato nella primissima puntata dedicata al fisis questo angosciante stupore come lo ha tradotto meravigliosamente manuele severino è l'inizio di ogni ricerca filosofica ecco la chiave psicologico decostruttivista di un angoscia che caratterizza il nostro esserci di fronte alle potenze della natura e della morte come pascal sgomento dinnanzi all'infinito questa angoscia costringe a voler conoscere secondo principi non logici della logica non appartenendo i principi parte genetici ai veri pensatori che che si presenta in chiave psicologista come critica ad ogni teoricismo per la possibilità di eliminazione della componente empirico psicologica nella comprensione dell'ente verso cioè un pensiero che è tale e manifestando la sua caratteristica di nesso intrinseco tra logos e pathos non c'è modo di intelligere senza la passione che guida la conoscenza questo ci dice e arriviamo così alla dottrina della prospettiva dottrina nicciana della prospettiva ogni oggetto può essere colto da una prospettiva unica qualsiasi prospettiva panoptica non ha fondamento da qui si può capire la riflessione nicciana sulla verità come interpretazione in una decostruzione affettivo psicologica dove la dimensione storica si rende fondamentale ogni oggetto va considerato decostruito in prospettiva sia psicologica che anche storica questo è il grande significato della genealogia così si ricostruisce il sistema metafisico nella sua istanza fondamentale quella della riduzione eiedetica per dirla a conusterla cioè la filosofia storica è d'ora in poi necessaria staglia scrive nicci in umano troppo umano e attraverso la lettura dei grandi empiristi del settecento e poi del trascendentalismo americano di himerson e poi di dostoevsky e di spinosa nicci si pone al centro della crisi dei paradigmi del sapere a cavallo tra ottocento e novecento gran parte dello zaratustra è dedicato alla critica del concetto di causa in pieno antideterminismo minando i fondamenti della meccanica classica la fisica classica assume pregiudizialmente che dal fatto che un evento accada esso debba necessariamente accadere così come accade cioè che esso abbia una causa determinante in altri termini noi vogliamo che vi sia sempre un soggetto dell'accadere così come noi pretendiamo di essere l'oggetto del nostro agire e questa nostra presunzione noi la attribuiamo alla natura il soggetto dell'accadere dice nicce invece è finzione nel senso proprio latino del termine non di menzogna così come ci fingiamo l'esistenza di un io che pensa e che decide gli eventi sono sì formulabili ma la loro formulabilità cioè la nostra capacità di misurarli non significa nessuna necessità ad essi immanente dice nicce l'unica cosa che certamente possiamo affermare in pieno accordo attenzione con le categorie aristoteliche è che questo evento non può essere nello stesso tempo e sotto le stesse condizioni di un altro non vedo azione nel processo degli eventi naturali questo è il refrain nel pensiero di nicce dello zaratustra e poi aperte di nuove le virgolette così come non vi è indeterminazione e casualità chiuso le virgolette come anche sarà dei processi psichici io non posso dimostrare l'inesorabile necessità dei miei atti né il contrario e cioè che essi esprimano il mio libero arbitrio qui è chiara la ripresa delle antinomie kantiane nessuna prospettiva vale più dell'altra quindi se cade questa idea del soggetto contro una interpretazione meccanicistica del reale cade anche quella dell'oggetto soggetto e oggetto simul stabunt simul cadent questo è il concetto importante e questo non è il razionalismo e antiscienza a proposito poi di un pensatore enorme e lettore di grandi materialisti come era nicce ma significa invece che per nicce il reale è la relazione tra soggetto e oggetto l'immanenza reciproca dell'uno nell'altro e a tutto questo deve corrispondere una logica della relazione e questo porta alla idea chiave di nicce vale a dire alla desostanzializzazione del mondo nicce apre meravigliosamente con coraggio da sisifeo all'epoca contemporanea dove il mondo viene desostanzializzato e questa desostanzializzazione domina tutta la nostra cultura è il paradigma interpretativo di noi contemporanei acquistiamo perfetta coscienza che la nostra rappresentazione non ha rapporto ontologico con la cosa rappresentata ecco così spiegate le grandi astrazioni in campo artistico e il nuovo agire politico attraverso il quale cambiano le idee di nazione di popolo di stato questo è il paradigma fondamentale di base logico filosofica pensato da nicce sui principi della grande fisica contemporanea mi fermo qui nicce è un autore estremamente complesso del quale vi sono infinite sfaccettature da analizzare e da pensare ma ho voluto qui dopo una ricognizione generale sui fondamenti del pensiero nicciano e partendo da una falsa interpretazione crociana e danunziana in italia di nicce come poeta dimostrare come invece nicce è tutt'altro che un poeta diciamo così un come croci stesso appunto lo affermava è tutt'altro che un letterato ma è un filosofo rigorosissimo un filosofo logico filosofico è un pensatore logico filosofico e ci vorrebbe un corso universitario intero per tentare di decifrarlo in tutte le sue profondissime e fondamentali rifrazioni perché nicce è il pensatore più importante della contemporaneità e mi auguro che questa questa puntata possa avere quantomeno in larga misura avere ridato agli ascoltatori e a tutti noi la importanza fondamentale di nicce per noi per la nostra contemporaneità e per la filosofia tutta per il pensiero occidentale tutto giovanni giammarino vi ringrazia per essere stati con lui vi dà appuntamento alla settimana prossima sempre alla stessa ora per continuare a riflettere sulla sul grande pensiero occidentale con accompagnati da i grandi tra i grandi come ci piace dire e vi augura un felice una felice serata accompagnata dai programmi di ameria radio ameria radio ha presentato agatos alla radice del pensiero a cura e con giovanni giammarino a cura e con giovanni giammando